Dove finisce l'acqua nelle ore notturne in alcune zone di Civitavecchia? Sono tanti i cittadini che si pongono questa domanda, subito dopo aver aperto il miscelatore del lavandino o quello della doccia, tra la mezzanotte e le sette di mattina e restando con l'amaro in bocca nel constatare che del prezioso liquido trasparente non c'è traccia. Si tratta di un problema che, stando alle tante segnalazioni che continuano ad arrivare già da qualche giorno, riguarda la zona di via Pollodoro fino ad alcuni tratti di via Lepato. In sostanza, dopo una giornata tranquilla, senza problematiche idriche di sorta, l'acqua scompare letteralmente a partire dalla tarda serata per tornare solamente a prima mattina, poco prima delle sette. Non avendo Acea, il gestore idrico della città, comunicato problemi e guasti sulle condutture, sorge il dubbio che il flusso dell'acqua che arriva in alcune aree centrali della città venga interrotto o quantomeno ridotto al minimo, permettendo solamente da alcune utenze di fluire del servizio. I problemi non mancano, acuiti dal grande caldo di questi ultimi giorni. A partire dall'impossibilità di fare la doccia nelle ore serali, per chi per esempio è reduce da un turno di lavoro notturno, oppure di mattina, per chi ha bisogno di una sciacquata prima di andare a prendere il treno dopo una notte passata a boccheggiare per il caldo. Non solo, ci sono anche criticità collegate con i guasti a cui vanno incontro gli elettrodomestici che usano l'acqua su tutti i lavatrici e lavastoviglie che tanti cittadini hanno l'abitudine di far partire proprio nelle ore notturne per risparmiare qualcosa in bolletta. I cittadini che ci hanno contattato hanno spiegato di aver chiamato Acea al numero verde che al di là di aprire segnalazioni non fornisce spiegazioni sui disservizi. E allora si viaggia con la mente, forse pensando che l'acqua di alcune zone della città venga dirottata su altre linee, quelle per esempio che riforniscono le crociere presenti in porto oppure le piscine cittadine.